Il segreto dietro la vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello, le parole di Alfonso Signorini. Alfonso Signorini, ospite del primo appuntamento di Non lo faccio X moda, nuovo podcast di Giulia Salemi, ha parlato della vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello. Prima di rivelarti, il retroscena dietro la vittoria di Perla al Grande Fratello, svelati da Alfonso Signorini in persona, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie per il supporto. Il conduttore ha anche rivelato che fosse assolutamente certo che alla fine avrebbe trionfato Beatrice Luzzi, che invece si è classificata seconda. Ecco cosa ha dichiarato Alfonso Signorini, parlando della vittoria della 26enne salernitana. Ero certo che non vincesse Beatrice, anche se non l'ho mai lasciato intendere. Lei non rappresenta il concorrente ideale per il pubblico del Grande Fratello. Lei è stata la vera anima di questa edizione, perché è una donna che ha saputo raccontarsi a 360 gradi, offrendo ogni puntata dei punti di discussione e di riflessione. È stata un'anima meravigliosa che ha avuto la generosità di raccontarsi. Lei è un'anima che divide il pubblico, che può piacere ma che può essere anche detestata. Si è raccontata con verità. Perla è più tonda come personalità, è più morbida e rappresenta pienamente il target del Grande Fratello. Tante ragazze e tante donne si sono identificate in lei, dato che è nata come la sfiga che è stata tradita, anche se in realtà è stata prima lei con Igor che Mirko con Greta. Quel mondo lì ero sicuro che facesse sfracelli. Me ne ero accorto anche dallo studio, dato che in ogni puntata c'erano un sacco di perline, le fan dell'avatiero. Perla, in una recente intervista concessa a Superguida TV, ha replicato ad alcune dichiarazioni di Beatrice, che nella casa l'aveva descritta come la regina del trash. Sicuramente mi ha infastidito un video molto pesante che non avevo mai vista prima, in cui Beatrice diceva che non vedeva l'ora di arrivare allo scontro con la regina del trash, con la bulletta. Ovviamente si riferiva a me. Non è qualcosa che mi ha fatto male, ma ho provato più che altro disagio per lei. Lei sfidava tutti i giorni le persone, ma si è intimorita davanti a me perché ha visto una ragazza di 26 anni che, nonostante la giovane età, era forte tanto quanto lei. Io non ho mai avuto questo accanimento nei suoi confronti e nemmeno mi è mai interessato. L'avatiero si è anche tolta qualche sassolino dalle scarpe. Alla fine Beatrice questo duello l'ha avuto, l'ha preteso, ma poi alla fine lo ha perso.